Noi del 5 Stelle in Europa credo che siamo l'unica forza politica all'interno del Parlamento europeo che è chiaramente post-ideologica. Siamo gli unici che riescono a dialogare tranquillamente con i colleghi dell'estrema sinistra come con i colleghi dell'estrema destra. Riteniamo che attualmente in questo periodo storico le divisioni tra destra e sinistra siano superate in favore di ben più profonde divisioni, tra una visione del mondo globalizzata che punta alla finanziarizzazione dell'economia e allo sfruttamento delle risorse residui planetarie e tra la volontà dall'altra parte di creare un'economia che possa convivere all'interno dei limiti planetari delle risorse, delle leggi della fisica e della biologia e nello stesso tempo garantendo quelle che sono le sovranità nazionali per evitare che potenze straniere dettino l'agenda politica ed economica dei singoli Stati nazionali.